Ciao a tutti, benvenuti su Tech Gaming. In questo video vedremo le novità introdotte su Twitch di recente. Novità che sono disponibili per una cerchia ristretta di utenti, ma che potrebbero diventare presto disponibili per tutti. Se visualizzate la notifica non appena andate sul vostro canale e cliccate sulla notifica, verrete trasportati in questa schermata, ossia la nuova interfaccia del vostro canale, dove sono presenti in home i giochi che avete trasmesso, i vostri amici e i contenuti in evidenza. Su informazioni invece avete la classica scheda del vostro canale che una volta veniva visualizzata all'accesso al vostro canale. A destra invece abbiamo i vari social che vedremo tra poco come aggiungere e modificare. Programmazione invece permette di avere un quadro generale della vostra programmazione, quindi gli spettatori possono vedere in che giorno trasmettete e a che ora e che cosa. Su video ovviamente sono presenti tutti i video che avete salvato, anche nelle playlist, con la possibilità ovviamente di personalizzare il layout, come prima. E su chat invece, diciamo la classica schermata vecchio tipo. Fatto questo, cliccando su personalizza il tuo canale, verrete trasportati in questa schermata, da dove potete notare alcune nuove voci, tra cui la possibilità di caricare il trailer del canale. Quindi se avete un trailer potete caricarlo e verrà mostrato ai vostri spettatori non appena il canale è offline. In link dei social network invece potete indicare il nome del social e il link e verrà visualizzata l'iconcina con il nome e il collegamento nella posizione di prima, quindi accanto al vostro canale, al nome del canale. Avete la possibilità di programmare lo streaming, quindi aggiungere una programmazione, cliccando qui potete indicare l'ora di inizio, la durata, il giorno, la categoria ed ovviamente il titolo. E verrà mostrata in questa schermata, quindi programmazione. E diciamo le novità per ora finiscono qui per quanto riguarda la nuova interfaccia. Per adesso purtroppo non è ancora possibile modificare questa schermata, dove c'è scritto Tech Gaming, infatti ho tentato di cercare in vano una voce che mi permettesse di modificarla, ma purtroppo per adesso non è presente. Comunque con la nuova interfaccia, come potete vedere, vi sono i giochi che voi giocate in streaming, quelli giocati ultimamente, i contenuti in evidenza, eccetera eccetera. Quindi, se volete attivare la nuova interfaccia, non dovete far altro che cliccare sulla notifica che vi spunta fuori non appena accederete al vostro canale. Cliccando su Imposta un trailer del canale, come potete vedere, verrete trasportati direttamente qui, dove potete scegliere un trailer. E probabilmente, anzi sicuramente, verrà mostrato qui, al posto di Tech Gaming. Quindi, per adesso non potete impostare un'immagine fissa, ma un video. Magari in futuro le cose cambieranno. Se questo video vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming, e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.